Inauguro in pratica oggi un'attività che è l'agriturismo, io ho tentato di recuperare un po' la storia dei luoghi, l'attività che svolgo è di locazione di mini appartamenti che sono queste casette alle mie spalle dove è possibile in assoluta privacy poter vivere in mezzo alla campagna dell'ambiente circostante, Loma Mers sta per l'Umi di Marzo, era una tradizione che si celebrava in tutta la Romagna sul finire dell'inverno precisamente negli ultimi giorni di febbraio, primi di marzo, si accendevano dei fuochi nelle aie, si ballava e si cantava questo per in un qualche modo festeggiare l'inverno che se ne sta andando perché da qui a poco esploderà la primavera e l'estate e questo veniva fatto proprio come auspicio, buon auspicio per l'annata agraria che deve arrivare. Sto impagliando una sedia con erbo palustre come si faceva una volta, questa noi la chiamiamo Zulina però ha tanti nomi, è un erbo palustre che cresce nella valle, io lo facevo da ragazzino poi ho abbandonato e adesso sono una ventina di anni che lo faccio. Ho iniziato così per scherzo perché qualcuno pensavo che avesse qualche sedia vecchia di impagliare ma invece ce ne sono che hanno anche le nuove, non solo le vecchie, quindi il lavoro mi piace, non c'è più nessuno che lo faccia e se qualcuno vuole imparare io sono disposto anche e se ne è già qui.